Ciao a tutti! Questa è una piccola review dei prodotti per le labbra che ho comprato negli ultimi mesi. Se mi conoscete sapete che io non tanto vado matta per i prodotti per le labbra, quindi i rossetti, i riusciti da labbra, perché non mi piace tanto indossarli. Però un po' per l'accademia di trucco, quindi mi devo un po' rifornire di materiale, anche per iniziare a provare alcuni prodotti, ho fatto un po' di acquisti in questi mesi. E ve ne parlo, sono tutti prodotti comunque di marche accessibili a tutti, quindi Kiko, Essence, eccetera, quindi iniziamo subito. Allora, innanzitutto iniziamo con le matite labbra, che sono tantissime, praticamente ho preso tutte le matite da contorno labbra semplici, più una matita per scurire e una matita per illuminare. Ora vi spiego anche a cosa servono. Innanzitutto, matite contorno labbra. Ho preso una matita color carne dell'edizione limitata di Kiko, queste qui, automatiche, che da un lato hanno la matita con la mina che appunto si gira così, e dall'altro lato hanno un tappino con lo sfumino, così. Ed è caruccio questo sfumino, devo dire. La numero 03 è il colore della matita, un colore appunto carne. Ve lo faccio vedere. Molto semplice, è un colore molto portabile, che può servire anche semplicemente per fare un contorno labbra, se non vogliamo mettere sopra un rossetto, a parte ovviamente la gamma nude che ci sta bene, ma vogliamo mettere semplicemente un lip gloss sopra. Molto carina questa, devo dire. Poi ho preso delle matite contorno labbra di Essence, praticamente le ho prese tutte, credo, perché sono cinque. E sono la numero, ve lo dico in ordine, 01 Soft Rose. Questa è la matita della Kiko, e questa è la 01 Soft Rose di Essence. Anche questo è un colore abbastanza naturale, che vira un po' sul rosato scuro. Poi abbiamo la 02 Pink Brown, eccola qui. È molto simile alla 01, soltanto che questa vira più sul marroncino. Sempre però un marroncino che assomiglia a un rosa antico, anche qui. Poi abbiamo la 06 Satin Move, quest'ultima sulla destra. Questa è più scura, diciamo. Non è satinata comunque, sono tutte matte le matite. Non so perché sia scritto Satin come nome, ma in realtà è la più matte di tutte questa. Molto bella anche questa. Poi abbiamo la 04 Honey Bun, sempre l'ultima a destra. Ancora più scura, ancora più marroncina, se vogliamo. Questo è un più mattone, diciamo. E infine la matita rossa, anche se non è proprio un rosso puro. Perché è un rosso che ha molto di rosa. Vedete? Questa qui. Ed è la 07 Cute Pink. Questa è la panoramica. Sono tutte matte di Essence, tranne la prima, qui a sinistra, che è di Kiko. Allora, queste matte sono veramente buone, devo dire. Per il prezzo che hanno, che si aggira, come sappiamo, intorno a 1,50€. Insomma, quello è il prezzo delle matte dei prodotti di Essence. Scrivono benissimo, anche sul contorno labbra, sul contorno esterno labbra. Durano, e devo dire che non ho nulla da dire. Sono molto precise, se temperate risultano molto appuntite, non si sfaldano immediatamente. Nonostante questo, però, sono morbide. Nell'applicazione non fa male, perché alcune matite ti danno quella sensazione come se ti pungessero, no, quasi. Sono precise, perché hanno appunto la mina abbastanza puntita, però sono comunque morbide. Passiamo a due matite, invece, che usano di più, diciamo, i professionisti del campo. Io per prima, appunto, prima di fare la scuola, non me ne ero mai calcolate. Perché, appunto, una è per il contorno esterno labbra, l'altra invece per scurire alcune zone della bocca. Vi spiego. La prima, che è stupenda, e l'ha trovata, credo, anche in altre marche, perché esiste la famosissima Cupidon di Guerlain, esistono altre matite color carne, appunto, ed è una matita che si chiama banana, perché è il colore del frutto della banana, ovvero questo color carne, ed è così, un attimo solo, aggiungiamo, questa è la mina, molto chiara, non è bianca, è un color carne quasi giallino, per questo, appunto, assomiglia al frutto della banana come colore. Ve la swatcho. Vedete? Penso che si vede il colore, no? Sì. È più scuro della tonalità di carne. Questo perché serve ad illuminare, ora vi spiego un po' come si utilizza. Allora, torniamo a noi. Ok. Allora, ho fatto un ingrandimento labbra, non perché mi stesse bene, perché in realtà, secondo me, non mi stanno bene le labbra carnose, ma per farvi vedere, appunto, cosa serve la matita color carne. Se io voglio fare un ingrandimento labbra, devo chiaramente fare il contorno con il colore che più mi aggrada sul contorno esterno della bocca, se no non riesco a ingrandire. Quindi, che cosa succede? Che il contorno esterno labbra viene automaticamente annullato e lo devo rifare. Lo posso rifare, appunto, con una matita del genere. E rifaccio con questo tutto il contorno esterno labbra, che, appunto, delimita bene la zona esterna della bocca e fa ancora di più risaltare le labbra. Ovviamente, questa si può utilizzare anche se non volete ingrandire le labbra, ma volete semplicemente illuminare tutta la zona intorno alla bocca. E questo vi darà ulteriormente volume e illuminazione alla bocca. È molto bella. Questa è una matita di Studio 13, una marca, diciamo, è una profumeria cineteatrale che si trova in Piazza Cavour a Roma e che fa, appunto, una sua linea di cosmetici professionali, ma ne vende anche altri, tipo la Ben Nye, la Criolan, famosissimi, la Paris Berlin, eccetera. Ha anche una sua linea dove fanno un bel po' di cose, tra cui questa matita che, secondo me, è veramente ottima. Della stessa marca, appunto, abbiamo una matita marrone freddo. La matita marrone freddo viene utilizzata solo ed esclusivamente per delimitare le zone più scure delle labbra. Quindi si utilizza per schiarire gli angoli esterni delle labbra e, in alcuni casi, se vogliamo fare il contorno. Poi, sulla matita color banale, mi sono indicata di dirvi che serve anche per illuminare la parte centrale del labbro inferiore. Che, se vedete, l'ho utilizzata. Questa zona dovreste vederla più illuminata. Poi, passiamo ai rossetti. Ho tre rossetti da farvi vedere. Due di Essence che adoro, sono stupendi. E sono del numero 46 Fashionista. Un color marroncino bellissimo. Vediamo se riesco. Mi piacciono tanto perché sono molto, come vedete, molto luminosi, molto idratanti. Hanno un'ottima tenuta per il prezzo che hanno, soprattutto. Mi trovo veramente bene. Soprattutto idratano e non seccano le labbra. Un altro colore che ho preso è questo qui, il 44 Almost Famous. Questo bellissimo rosso, ve lo faccio vedere. Ed è questo qua. Molto bello. Quello di prima, ve lo faccio vedere aperto. È così. Infine, un rossetto di Kiko, il numero 92. È un rossetto, diciamo, della linea Basic di Kiko. È un nude. Ed è molto bello il colore, diciamo. Molto carino il colore. Soltanto che questo non dura proprio per niente sulle labbra. Devo dire, ha una durata brevissima. Anche questo rossetto è abbastanza idratante, devo dire. E poi passiamo un attimo a luce della labbra. Non li ho tutti qui, perché alcuni li ho a casa. Però ve li faccio vedere lo stesso. Uno è un Super Gloss di Kiko. Qua non c'è scritto il codice perché si è staccato. Comunque è il rosso ciliegia, praticamente. Ce ne sono due di rossi, se non sbaglio, della linea Super Gloss. Uno è questo e l'altro è proprio quel rosso intenso. Questo è il rosso meno intenso, diciamo, che c'è. Ed è un po' più sul corallo. Eccolo qui. E ve lo swatcho. Allora, questo che vedete, ovviamente, ha una coprenza scarsa. Nel senso che non si vede il colore corallo ciliegia sulle labbra. Quindi in questo senso può non piacere se uno vuole un lipgloss coprente. Però ci sono, se non sbaglio, altri colori dei Super Gloss che sono leggermente più coprenti. Questo comunque, in ogni caso, mi piace molto. Soprattutto da tenere sulle labbra perché ho visto lipgloss peggiori, nel senso che non ha profumo, non ha sapore. E questo a me piace perché mi nausee avere un prodotto sulle labbra che abbia un odore, abbia un sapore molto intenso. Quindi questo non ha odore e non ha sapore. Non è troppo appiccicoso. Diciamo che tenere sulle labbra non dà alcun fastidio. Non è molto comprente, come vedete, dallo swatch. Però non ha neanche una grandissima durata. Se non sbaglio dura tre quarti d'ora. Proprio assai, assai. E quindi questo. E poi abbiamo, dato che in questo periodo c'è l'offerta su lipgloss, ho preso due lipgloss. Che sono questo color trasparente, proprio trasparente, trasparente. E questo invece è il color prugna. Il più chiaro e il più scuro. Ho preso questi due perché pensando di dover truccare un'altra persona, chiaramente non posso usare i lipgloss con questo tipo di applicatore. Perché ovviamente non posso usare lo stesso applicatore su tutte le persone, compresa me. E quindi utilizzo questo tipo di lipgloss perché posso appunto metterlo un po' sulla mano e poi col pennellino, col pennellino poi lo applico. Quindi mi serve, diciamo, molto questa tipologia di lucido. Vedete il colore è molto intenso, molto coprente. Mi piace tantissimo, devo dire. Proprio bello. Vabbè, quello trasparente è abbastanza inutile che ve lo faccio vedere. Perché appunto è proprio trasparente, trasparente. Mi piacciono molto anche questi. Ehm, che altro? Passerei adesso ai pennelli. Passerei. 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 Passerei.